esistono molti più angeli di quello che immaginiamo una moltitudine immensa ognuno ha una mansione specifica ma tutti adorano il creatore con gratitudine indescrivibile la stessa creazione sorretta da loro tutto il creato obbedisce alle leggi fisiche chimiche e biologiche ma gli angeli hanno il compito di aiutare l'umanità sotto tutti i punti di vista queste leggi che sorreggono il cosmo corruttibile potrebbero anche ritorcersi contro l'uomo se non fossero gli angeli che compiono la volontà divina pochi di noi si rendono conto di quanta importanza hanno gli angeli anche per la nostra stessa esistenza diamo per scontate molte cose ma il signore che fa piovere sui giusti e gli ingiusti vuole salvare tutte le sue creature pur lasciando loro il libero arbitrio e gli angeli contribuiscono invisibilmente anche all'ordine materiale e spirituale degli uomini perché eseguono gli ordini divini noi diamo per scontato che il sole sorga e tramonti secondo ritmi ben precisi senza gli angeli però tutto imploderebbe in brevissimo tempo perché gli imprevisti in natura e nella società sono molto più numerosi di quello che la nostra mente concepisce terremoti alluvioni raggi cosmici meteoriti calamità infortuni malattie guerre omicidi eccetera gli angeli ci aiutano a non soccombere tra moltissimi pericoli e rischi quando è la nostra ora di passare nell'altra dimensione essi ci accompagnano insieme ai santi